Il sistema che in un attimo analizza la tua figura e crea il giusto materasso per te. Domino il materasso su misura, appositamente studiato da un'equip medico-scientifica in base alle caratteristiche del tuo corpo. Provalo presso uno dei rivenditori autorizzati Siromed della tua zona e troverai la soluzione ai tuoi sogni difficili. Domino, il materasso costruito solo per te.